Per viaggiare, salire sui mezzi pubblici ed andare al cinema o teatro servirà ancora la mascherina FFP2. In tutti gli altri luoghi, invece, sarà soltanto raccomandata. Dal 1 maggio l'Italia torna libera dalle restrizioni per combattere il Covid-19, ma alla luce dell'alto numero di contagi si proseguirà comunque sulla linea della prudenza. Il provvedimento del ministro Speranza proroga infatti fino al 15 giugno l'obbligo della mascherina in alcuni luoghi considerati a rischio. Per quanto riguarda bar e ristoranti, dal 1 maggio cadrà l'obbligo di mascherina sia per clienti che lavoratori. La protezione però è raccomandata in caso di affollamento. Gli studenti e docenti, invece, devono continuare ad indossarla sino alla fine dell'anno scolastico. Al lavoro, salva accordi aziendali ad hoc, la protezione naso e bocca sarà soltanto raccomandata. Stoppa l'obbligo anche in negozi, centri commerciali e supermercati, dove l'uso è comunque raccomandato come da estetiste e parrucchieri, fino al 15 giugno poi si dovrà indossare la mascherina FFP2 per viaggiare sui mezzi pubblici come del resto cinema, teatri o locali di intrattenimento. Allo stadio si potrà assistere alle partite a volto scoperto. Solo nei palazzetti si dovrà continuare a proteggere naso e bocca. La mascherina poi negli ospedali e nelle RSA non è stata mai messa in discussione. continuerà ad essere obbligatoria la FFP2 in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private RSA incluse. Infine, dal 1 maggio, addio al Green Pass.